Allora, 13, 13 e 40 e 50 quando dico un fischio, segnali orari, eccolo, lo vedete? Il dischetto di mercurio si è affacciato dentro al sole. E' un punticino microscopico proprio, una capocchia di spillo. Grazie. Vedete che ancora non possiamo dire che è entrato, anche se ora 13, 15 e 12, passati 3 minuti, diciamo che il distacco non c'è, non c'è ancora, teoricamente c'è già stato. Allora, la relatività generale non la dobbiamo mandare in pensione perché effettivamente è arrivato al tempo suo. Adesso si tratterà di vedere se il distacco, riducendo bene i dati, corrisponde al distacco previsto oppure no. quello che vi dicevo che il mercurio ha le dimensioni della separazione tra le due macchie è un pochetto più grosso ma più o meno è quello. e questo è il moto orbitale, cioè quello che state vedendo in questo momento è il moto orbitale di mercurio combinato con quello della Terra nella sua fase di ingresso sul sole. Praticamente si farà un milione e mezzo di chilometri fino a stasera alle 8.40 quando abbandonerà il disco del sole. Adesso è entrato. queste piccole lucine che sono il residuo del... che ora segna quello? 17. Adesso mi sposto un pochino dentro per prendere l'orologio. è un pochino dentro per prendere l'orologio. con la differenza del 90% oppure nollone si poggessi Ranieri salisano e grazie a tutti. Grazie.